Ecco, altro esercizio sotto gli ordini di mister Giuseppe Gian Cristoforo, ecco, uno funge da ala e si accentra nell'area di rigore e tira in porta, parata del portiere, ecco, altri due ragazzi partono, ecco, va a prendere, ecco, lo ripassa alla ragazza che sta al centro che doveva girare in porta, ecco, parte, ecco, la Lady, l'unica ragazza del gruppo, ecco, vediamo, ah, presa dal portiere, ecco, mistero Giuseppe, ecco, ripassano altri due ragazzi,